La delusione è giusta perché è normale che ci sia dopo che si perde una finale di questo tipo, una finale di San Giuseppe, c'è l'amarezza perché c'è stato un momento nel quale pensavamo che la gara forse dalla nostra parte e forse è stato proprio lì che l'abbiamo persa, per cui grande entusiasmo, grande felicità, abbiamo cercato di vincerla e abbiamo poi concesso dei controvoli e delle transizioni che ha una squadra come loro, con delle qualità e degli elementi simili, insomma, fai fatica a vincerla. Abbiamo contato una squadra, come dicevamo anche la vigilia, diciamo, è la più forte del mondo in assoluto, però abbiamo fatto gara e questo mi rincuorga. Siamo cresciuti tutti anche come squadra, come gruppo e che migliorandoci ancora possiamo riprovare nei prossimi due anni, tre anni ad arrivare in finale e magari riuscire